Allora Paola, quali sono le emozioni che provi in questo momento, visto che questa sera sfiderai con la bandiera del CIO la cerimonia d'apertura dei giochi olimpici di Tokyo? Sono molto felice, emozionata, non vedo l'ora, anche se so che sarò molto nervosa e agitata, è un onore e cercherò di godermela tutta perché è un ricordo unico.